Al via la settima edizione del progetto La Primavera della Legalità che si sviluppa principalmente nella provincia di Pesaro Urbino e si concentra su tematiche importanti come la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. È nata nel 2016 con l'intento di riunire associazioni e scuole che durante l'anno organizzano iniziative sul tema della criminalità organizzata. Quindi l'idea è quella di mettere insieme delle realtà perché insieme si ha sicuramente più forza, si possono scambiare relatori, si possono scambiare e condividere iniziative e insieme si è più efficace nel territorio. L'idea è appunto quella di unendo le forze e quello di essere più pragmatici nel territorio sul tema della criminalità organizzata. Un progetto particolarmente interessante che vede coinvolte 43 realtà del territorio. Sono tante, sono 43 trascezioni scuole, non ne elenco in questo momento perché non vorrei dirne alcune e dimenticarne altre. Sono appunto 43, di anno in anno se ne aggiungono sempre di nuove perché si nota in questo programma l'idea appunto di rafforzare ogni realtà su un cammino che ci dia la consapevolezza di come anche nel nostro territorio ci sia l'esigenza di stare attenti su questa problematica. Il calendario di questa settima edizione della Primavera della Legalità presenta iniziative che si svolgeranno nell'arco di diversi mesi iniziando da sabato 17 febbraio e proseguendo per tutto l'anno. Numerosi gli incontri aperti al pubblico ma previsti anche diversi appuntamenti presso le scuole perché è necessario, dicono gli organizzatori, informare soprattutto i più giovani. Tante realtà, tante iniziative che si fondano su cinque parole chiavi della criminalità organizzata. La criminalità organizzata si fonda sul potere, sulla violenza, sulla far finta che non ci sia il problema, sulla resistenza ambientale, nel tipo che più iniziative ci sono nel territorio e più la criminalità organizzata fa difficoltà a insediarsi e a radicarsi nel territorio stesso. Tanti gli appuntamenti imperdibili, tra cui quello in programma il prossimo 3 giugno a Mondavio con il procuratore Roberto Rossi. Il procuratore generale di Ancona che vede appunto riunite tutte le iniziative, tutte le realtà che compongono la prima della realtà, poi Antonio Nicaso e Nicola Gratteri e lo spettacolo di Claudio Fava, questi sono i tre eventi sul quale tutte le realtà in qualche modo si concentreranno e si metteranno insieme. Poi dopo ogni realtà organizzerà la sua iniziativa che abbiamo inserito in questo contesto.